Eccoci, siamo a Santa Cristina in Val Gardena. A fianco a me c'è una bellissima signora che si chiama... Sibile Demetz, buongiorno. Ecco, Sibile Demetz è la titolare del Residence Sovara di Santa Cristina. Una struttura molto bella, a quattro stelle, un residence moderno, attuale, ed è proprio ubicata in centro al paese. Sibile, da quanto tempo è che esiste questo residence? Questo residence esiste da 35 anni, era una casa privata che i miei genitori hanno comprato, l'hanno ampliata e anche migliorata qualitativamente e oggi giorno è la struttura che è e da 12 anni la gestisco io. Perfetto, quanti appartamenti ha questo residence? Sono 15 appartamenti di più misure, da monolocali per due persone, fino ad appartamenti per otto persone. So che avete anche un bel centro benessere. Sì, abbiamo un reparto saune con tre tipi di saune, c'è una biosauna, bagno turco e sauna finlandese, una bella zona relax panoramica, poi c'è una sauna raggi infrarossi, c'è la possibilità di fare trattamenti estetici e massaggi. Quanto è importante essere a Santa Cristina in Val Gardena? Noi siamo molto contenti di essere a Santa Cristina che è il paese più soleggiato della Val Gardena e come casa soprattutto siamo in un posto dove c'è il sole tutto l'anno dal mattino alla sera che apprezziamo molto. Siamo a poca distanza dagli impianti, con lo ski bus che parte sotto casa e in pochi minuti si raggiunge l'ingresso della stella ronda. Perfetto, volevo chiedere che tipo di clientela avete? La nostra clientela è una clientela attiva che ama sciare e in estate fare delle escursioni anche in mountain bike, anche famiglie specialmente in estate, gruppi di persone che vengono qui per praticare sport, comunque sempre gente abbastanza attiva. Perfetto, quali sono i sogni nel cassetto? Abbiamo tutti gli anni dei progetti piccoli e anche più grandi. Il prossimo progetto è un ampliamento del reparto sauna, con sauna esterne, piscina, anche dei progetti per dei chalet che vediamo poi quando verranno realizzati. Vogliamo dare i dati per potervi contattare, numero di telefono, indirizzo mail e indirizzo internet? Sì, allora il nostro indirizzo e mail è info-sovara.it, il sito è www.sovara.it e il numero di telefono è 047179 e 4 volte il 3. Perfetto, ringraziamo la signora Sibille per questa intervista, a voi studio.